Bella, da? Eh, sì, guarda, ci siamo lasciati, ma devo dirti che sono da Dio. Mi sono tolto un peso enorme, credimi. Ovvio che sì! Tavo le tipe come i vecchi tempi? Sì! A stasera, ciao! No, che non voglio uscire stasera! Mi ha appena lasciato! E la fine del mondo, se non so come farò a vivere! Ciao, Davide! Ma niente, mi rilasso a casa, guardo un po' di Netflix. No, no, grazie, stasera me ne sto, tranquillo. Voi divertitevi, mi raccomando. No, che dici? Ma ti pare! No, non penso più a lei da un bel tuo, ma... Va bene, dai, allora poi domani mi chiami e mi racconti, ok? Ciao! Ciao, Bea! No, beh, è ovvio che ci penso ancora, è normale, però le cose vanno meglio di giorno in giorno, grazie. Ma no, voi uscite stasera, io preferisco stare a casa e guardo un po' di TV. Fiedermi poi per sapere, ciao! Non volevo finire se è andata così! Ho perso una parte di me dentro, un altro drink! Ciao, Bea! Ma certo che esco con voi! Non dovrì neanche domandarlo, sto da Dio! Oh, perfetto, perfetto! Allora, do solo da mangiare il gatto e poi ti chiamo quando parto da casa. Ci vediamo dopo! Ciao, 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 ciao!